Ok, si sente? Ok, ci siamo. Dunque, questo è il secondo film di Bong Joon-ho, famosissimo e incensatissimo regista di Parasite, che è stato uno dei grandi successi degli anni scorsi. E questo suo secondo film è stato recuperato, come spesso avviene, dopo che ha avuto grandissimo successo Parasite, che è, mi pare, il suo quinto o sesto film, mi ricordo bene. Quando ha fatto questo film era molto giovane, non so se aveva 30 anni o qualcosa, forse meno, e si era già rivelato come un grandissimo talento. Poi con questo, con Parasite, il suo talento è ormai stato consacrato a livello internazionale e hanno ritirato fuori questo film, che già all'epoca aveva avuto però grande successo di critica. Per Taluni addirittura questo film sarebbe superiore a Parasite, poi queste sono ovviamente dibattiti tra critici, quel che conta è che Bong Joon-ho è un talento straordinario, veramente, con alcune caratteristiche. Intanto cambia spesso genere nei suoi film, ma poi come spesso succede, un po' come Tarantino, se volete, non lo dico a caso Tarantino, poi ci arriveremo un attimo, ma ha una sua poetica molto precisa. Intanto vorrei sottolineare la straordinaria capacità di raccontare di questo regista, che è formidabile, veramente, tiene lì lo spettatore, proprio due ore in questo caso, ma ci tiene avvignati, è proprio letteralmente avvignati al film, anche se poi, contrariamente al film del genere, di questo genere, le azioni, le scene di vera suspense sono pochissime, però è interessante per altri motivi. Avevamo detto a proposito di Parasite, quando avevamo commentato, che era un film che è in trasparenza, era un film anche molto politico. In realtà tutto il cinema di Mon Jong-ho è molto politico e per conoscerlo bene fino in fondo, probabilmente bisognerebbe conoscere molto bene la storia della Corea, che non è una storia di un paese tutto rose e fiori, Corea del Sud contrapposto alla Corea del Nord, no, non è proprio così, dicono le cronache. E d'altra parte, qui in un paio di passaggi molto veloci, si vede prima una manifestazione repressa anche duramente dalla Polizia, e poi invece c'è l'accenno al fatto che ci sono gravi disordini e quindi la Polizia non può venire a fare quella ricerca, che il sovrintendente capo della stazione Polizia aveva chiesto. C'è sempre questo in trasparenza, ma quello che in trasparenza, anzi qui per verità è un riferimento diretto, ma poi emerge in realtà nel suo modo di fare cinema e per come descrive i personaggi. Intanto sottolineiamo il suo timbro, prima parlavamo di Tarantino, qualcuno ha parlato anche dei Cohen, e secondo me sono riferimenti assolutamente pertinenti perché il modo di raccontare Bon Joon Ho è sempre di un'ironia pazzesca e riesce a sdrammatizzare storie molto drammatiche alla fine, solo che lo fa in una maniera tale che sdrammatizzando il genere, diciamo, in realtà drammatizza il contenuto, drammatizza a livello critico ovviamente, in questo senso lo dico. E allora noi abbiamo una serie di personaggi che sono formidabili, devo dire descritti proprio sia alla Cohen o alla Tarantino. Abbiamo il poliziotto violento, quello che picchia sempre quando ci sono interrogatori, c'è il poliziotto che sembra che dallo sguardo capisca tutto, poi fa di quelle cose totalmente assurde, una per tutte, quando sospetta che sia privo di peluria pubblica l'assassino che va dai bagni per vedere gli uomini, vedere se qualcuno non ha il pene. Sono cose veramente di un'ironia pazzesca, ma che sono cattivissime, perché è chiaro che qui esce dalla storia e parla del suo paese. Poi arriva quello che ne sa di più, sempre il personaggio più serio, alla fine è quello che sclera completamente, anche lui. Soprattutto poi c'è un assassino che noi non sappiamo chi sia. Qui contrariamente, davvero contrambenendo a tutto quello che è il cinema di genere, proprio l'assassino non lo si scopre, ci sta che alcuni sospettati poi siano innocenti, questo ci sta, ma poi negli altri film, il vero assassino viene fuori, qui no. Però anche il finale io lo sottolineerei, poi facciamo un discorso un po' più compiuto, sottolineerei il finale, perché? Perché l'inizio del film è un bambino che gioca, che incontra la polizia, e poi scopriamo che era polizieri perché ha scoperto uno dei cadaveri del serial killer. E il poliziotto è quello che vediamo alla fine, no? Quindi abbiamo il poliziotto, che all'inizio del film è poliziotto, con un ragazzino che ripete pedisseguamente tutto quello che lui dice, senza avere assolutamente paura del poliziotto. Quello che lui dice il ragazzino lo ripete. Alla fine del film, nello stesso luogo dell'inizio, abbiamo il poliziotto, che non è più poliziotto, però ha cambiato mestiere, il suo invito della sua donna, insomma. E di nuovo una ragazzina, un'altra ragazzina questa volta, comunque per dire sempre, gente giovanissima, la quale sostanzialmente gli rivela che ha visto l'assassino. Ma chi è l'assassino? Non lo sappiamo, ma l'ultima battuta del film, non lo so che faccia viva, una faccia comune. E su quella faccia comune su cui si chiude il film c'è poi la faccia del poliziotto, molto perplessa, ha dentro tutta una serie, un passato che ritorna, incertezze, tutto. C'è dentro tutta in quell'espressione lì, tra le altre cose, quest'attore è l'attore usatissimo da Bong Joao, che su sei o sette film che ha fatto, se non mi ricordo esattamente, quattro volte l'ha usato anche in Parasai, c'era, se vi ricordate. Ebbene, la ragazzina che dice quello, il primissimo piano di uno che era poliziotto e non è più poliziotto. E anche questo, se eletto politicamente, vuol dire tantissime cose. E quel fatto che l'assassino abbia una faccia comune, è chiaro che non è solo un serial killer, un assassino. Serial killer è chi ammazza tante persone. Una faccia comune, chi è? Sono tante persone la faccia comune, che ammazzano cosa? Questa è una domanda aperta, ma retoricamente aperta, perché chi conosce poi la storia della Corea, e chi conosce bene Bong Joao, è chiaro che si parla della Corea come oggi. Come in altri film coreani, peraltro, c'è un richiamo a cosa? A questa campagna, a questo verde, a questa vegetazione, un paesaggio rurale, dentro cui come un fantasma, e qui Bong Joao a volte lo riprende proprio quasi spiazzandoci, come se fosse una rivelazione, come se avessimo visto l'assassino. Invece cosa vediamo? La macchina da presa che si alza e inquadra le ciminiere, inquadra gli edifici, la fabbrica sostanzialmente dove la gente lavora. È la modernità che ha spazzato via la Corea, la storia della Corea, com'era la Corea e ha proposto altro. Guardate che qui la grandezza dei grandi registi si vede in come sanno raccontare, in come propongono le scene, in come propongono i personaggi, ma anche nella capacità poi, a un certo punto, di arrivare a sintesi straordinarie su quello che è il linguaggio del cinema. Quella, in una visione d'assieme, panoramica, noi vediamo quella città immersa in mezzo al verde e subito abbiamo l'impressione che quella città, quella fabbrica, scusate, non c'entra assolutamente niente col contesto in cui è inserita. Poi ce la inquadra invece, partendo dal basso, stanno parlando di cercare l'assassino e profusamente si alza e con una musica, anche che sottolinea la tipica musica di quando c'è una rivelazione nel film del genere, lui fa vedere ancora la fabbrica. Come dire, qui c'è un assassino che uccide donne, ma c'è qualcos'altro che uccide cosa? Che uccide la Corea. Questa modernità che non c'entra niente con la storia della Corea, una modernità che vi ricordo in Corea è venuta in maniera repentina e selvaggia. In 448 hanno spazzato via tutta la loro storia e hanno portato una modernità che non appartiene però alla loro cultura. E tra le altre cose, vi ricordate ancora in Parasite, ma questo c'è spesso nei film, più critici verso il regime coreano, verso il regime, ma la cultura, la Corea come è oggi. Chi ha visto Perché vuole ridarmi è partito per l'Oriente, per esempio, vi avrà ritrovato qualcosa di questo, ma anche in altri grandi film di registi coreani che hanno parlato di questo. Ebbene, in Parasite c'era quella villa dove c'era dentro, sì, tutti i riferimenti all'America, vi ricordate, no? Purtro se i personaggi erano coreani, eccetera. Qui la verità arriva dall'America, arriva ancora una volta dall'Occidente, non arriva mai dall'interno. Quindi capite quanto è politico il cinema di Bong Joon-ho, ma è reso politico con una verità straordinaria, la verità artistica che non è un trattato di politica, ma è un modo di raccontare un paese che per chi conosce bene, quindi rivolgendosi proprio anche ai suoi, ai coreani, ai suoi concittadini, Bong Joon-ho ci dice, adesso, io parto da vicende personali, per quanto drammatiche, o di piccole comunità, ma poi vi faccio capire benissimo che dietro questo c'è un paese. Non c'è la polizia che ha fallito, non c'è la violenza della polizia, non c'è il poliziotto che sembra razionale, poi alla fine si pone nella maniera più irrazionale. Di fronte a una prova certa che non è lui, dice no, hanno sbagliato e sta per farlo fuori. E l'altro che sembrava lo scemo è proprio quello che gli ferma la mano. C'è una confusione in chi gestisce il potere, che però porta a nulla, porta a fallimento, non trovano l'assassino e quindi le carte si mischiano. Ma è chiaro che in quella piccola comunità c'è chi è in mano il potere, che non ha ancora trovato l'assassino di cosa? Di un'identità perduta evidentemente, di un paese smarrito, di un paese modernissimo che a volte viene appreso come esempio, ma viene appreso esempio per esempio non a caso da chi dall'Occidente. Basta pensare all'ultima grande tragedia che ci ha colpiti, il Covid, la Corea del Sud era stata indicata come uno dei paesi più avanti nella tracciabilità, nel modo di prevenire quella malattia lì. Molto valutata dall'Occidente, perché ha preso l'Occidente e ha radicalizzato anche imponendosi come capacità di usare i mezzi occidentali, di sposare, di fare proprio la cultura occidentale, ma sta di fatto che ha spazzato via tutta la sua storia, tutta la sua, anche religione, tutta la sua cultura, tutta la sua identità. Ha spazzato via letteralmente questo. E questo smarrimento della faccia finale di Bong Joon-ho è esattamente lo smarrimento di un popolo che non si ritrova più. E la grandissima trovata di Bong Joon-ho è proprio quella di dire ve la faccio vedere dal punto di vista del poliziotto, che poi alla fine non è più poliziotto, trova la verità quando non è più poliziotto. Perché la verità, ci sta dicendo Bong Joon-ho, non lo si trova negli apparati di potere, la si trova nella vita di tutti i giorni. E lui che è diventato un qualunque lavoratore come tutti gli altri, non certo appartenente alle sfele del potere o di chi lo gestisce, anche ai piccoli livelli, poi sente una risposta straordinaria. Aveva una faccia comune. Punto. Qui i colpevoli sono tanti. E questo è un grande film che rimprovera certamente il potere in maniera radicale, basta vedere come ridicolizza chi rappresenta il potere in quel contesto. Ma poi, contestualmente, dice anche Alt, ma non sono solo loro. Un paese non smarrisce la propria identità solo per colpa di chi gestisce il potere. E in maniera così radicale, evidentemente, c'è qualcosa che non va. Poi però, nello stesso tempo, ci sta dicendo che chi protesta viene trattato come viene trattato. In due immagini e in un riferimento così di passaggio del film, Bongio Fou con una sintesi strepitosa, ci sta dicendo esattamente questo. Quindi, lui dice, la verità, l'assassino non c'è, forse perché gli assassini sono troppi, ha una faccia comune appunto. E in questo essere troppi non sono più identificabili con una sola persona. Guardate che, oltretutto, questa grande trovata, poi ci sono vari passaggi, ma abbiamo accennato solo un paio per dire della grandezza di questo regista, ma la straordinaria trovata è anche proprio questa, è contenutistica, e cioè a dire, va bene, non c'è l'assassino, ma perché non c'è l'assassino? Perché è tipico, nella funzione di questi film, che creano molta tensione, creano molto coinvolgimento nel pubblico, poi alla fine la scoperta dell'assassino ha proprio la funzione di scaricare tutta la tensione accumulata, quasi in maniera liberatoria, finalmente abbiamo scoperto l'assassino alla fine, il film si chiude con la sua distrazione di dire, beh, tutta la mia tensione, però alla fine, si è scaricata e ha trovato un suo appoggio nella scoperta dell'assassino. E io sono più a posto. In due ore di film, che mi ha un po' destabilizzato, mi ha coinvolto emotivamente, ovviamente io mi sono caricato, ma alla fine tutto è tornato come prima. Voi capite che invece non farci scoprire che è l'assassino ci lascia lì, ma per fare questo e togliere però questo fatto dal campo puramente emotivo, cosa ha fatto Bon John Ho? E qui la sua grandezza, anche il suo linguaggio, la sua ironia, ha tolto, non ha caricato noi spettatori di eccessiva emotività, attraverso l'arma dell'ironia, vedi Tarantino, vedi Cohen, che ci dicono grandi cose con un'ironia, per cui raccontandoci cose pazzesche, in realtà ce le fanno vivere quasi, non dico tranquillamente, perché no, sarebbe un po' troppo, però, ce le fanno vivere con il distacco tipico dell'intelligenza. Io vi ricordo che l'ironia, per i grandi studiosi che hanno studiato questo, è uno dei tratti più caratteristici dell'intelligenza e chi usa l'ironia, infatti, Tarantino, Ico, in Bon John Ho, sicuramente intelligenti non sono al massimo livello, ma lo usano come linguaggio proprio per dare modo allo spettatore di cogliere l'essenza del messaggio, questa è la grandezza di Bon John Ho e di questi registi. Io ti faccio, parto da un genere che in genere ha i suoi canoni, tu ti aspetta un certo tipo di film, io ti spiazzo, ma non ti spiazzo lasciandoti insoddisfatto, ti spiazzo anche lasciandoti divertire, perché sono film che alla fine sono anche divertenti per come tratteggiano il personaggio pur nella loro drammaticità, no? Ti lascio però nello stesso tempo lo spazio per ragionarci sopra e alla fine non sciolgo l'enigma, però, perché io alla fine non ti dico chi è l'assassino e così tu non vai a casa soddisfatto e dire i conti mi quadrano, perché ci dice Bon John Ho che i conti in Corea non quadrano per nulla, quindi lui dice io che in trasparenza ti parlo del mio paese non ti faccio sopprire l'assassino, semplicemente perché l'assassino non è uno, è una faccia comune e finisce giustamente così e chi cercava l'assassino alla fine rimane con tutto il suo smarrimento, quasi a scoprire che c'è qualcosa in giro, che c'è qualcosa di irrisolto, questo è il punto. Ecco allora che Bon John Ho va fino in fondo nel suo percorso e non fa sconti a nessuno, ma guardate che la stessa cosa dei fratelli Coin e di Tarantino che sembrano anche molto divertenti e lo sono spesso nel modo di proporre i film ma alla fine non fanno sconti a nessuno, proprio niente, anche le vendette che avvengono nei film di Tarantino ma avvengono in maniera tale per cui chi fa vendetta alla fine è sconfitto e più vittima di chi ha subito la vendetta, quindi vabbè poi andremo lontano non è il caso di dirlo adesso, ma siamo sempre lì alla fine, modi diversi però per spiazzarci rispetto ai canali consueti. Ecco, Bon John Ho questo ci dice e ce lo dice in una maniera formidabile intanto capacità di dirigere gli attori intanto capacità di raccontare formidabile intanto tutto un contorno per cui in realtà sono così grottesche le loro motivazioni per far parlare i cosiddetti sospettati tranne l'ultimo l'ultimo era un po' più serio ma poi vediamo che anche l'ultimo non è lui l'assassino. Diceva così grottesco che alla fine perché Bon John ce la propone così? Un po' per il discorso generale di cui vi parlavo prima questioni di coinvolgimento e di ragione ma molto anche perché a lui serve per far vedere più che far vedere le caratteristiche dell'assassino dei sospettati cosa ci fa vedere? Le caratteristiche di chi agisce nel nome della legge contravenendo ogni norma di democrazia anche di intelligenza perché sapete noi ridiamo però il fatto che i sospetti avvengono in base a quei canoni lì e qualche povero Cristo ci va di mezzo non è proprio cosa da poco perché dal loro punto di vista si ci fa ridere ma dal punto di vista degli altri perché noi ridiamo anche tanto poi c'è uno però che racconta storie perché l'hanno appeso a testa in giù insomma l'hanno tenuto lì quattro giorni l'hanno spogliato e l'hanno picchiato non sono cose da poco ce lo dice con leggerezza ma con ragionamento ci fa arrivare dico sì sì io non ti carico troppo emotivamente ma ti faccio ragionare e questo è il punto quindi anche questo approccio per cui l'indagine serve questa è un po' la lezione di Altman degli anni 70 quando parlando di alcuni anche romanzi di Chandler o personaggio comunque il poliziotto che cercava il marcio cercava l'assassino scopriva il marcio in chi doveva essere invece la parte giusta della società i primi grandi fino agli anni 70 di New York contro Hollywood per situarlo anche geograficamente come movimento questo era qui in maniera più matura perché nel frattempo sono passati anni eccetera ma vedete che è ancora lì è chi indaga che ha un problema quello che picchia troppo facilmente quell'altro che dice delle bestiarità pazzesche ma intanto avendo lui essendo rappresentante del potere può mettere nei guai la gente con queste dabbenaggini su cui ridiamo ma che provocano drammi ecco e poi c'è tutto il ragionamento invece di chi sembrando il più razionale certo lo è all'inizio ma poi alla fine quando trova la certezza della razionalità pan va giù duro e a onta di qualunque altro ragionamento deve essere quello l'assassino perché io sono quello ho le prove scientifiche mi sono messo in mente che è lui e poi però le prove scientifiche quando arrivano hanno sbagliato loro cercando sempre ovviamente la verità nella scienza quindi non è che hanno sbagliato possono sbagliare hanno sbagliato a fare l'analisi ecco questo per dire è una messa in discussione in generale dei vari aspetti del potere dei vari modi di produrre il potere ma soprattutto è un film che attraverso la capacità di raccontare fa uscire e chiudo completamente il film dall'ambito ristretto di quella comunità e ne fa un grande discorso sulla Corea ma questo è così trasparente proprio come modo di raccontare come approccio ai personaggi che ce la mette lì ci fa ragionare proprio sul fallimento completo di una nazione secondo il suo modo di vedere ovviamente no e che però non ha un assassino ma perché le cose ci dice sono complesse non sono mai quelle che sembrano e quindi noi dobbiamo cercare di capire c'è il potere ma attenzione che non è solo il potere quindi un film di una moderna è tutta straordinaria che come tutti i grandi film si può applicare come metodo di ragionamento e l'indagine anche ben fuori dagli ambiti coreani può venire tranquillamente che dalle nostre parti o dove volete voi ecco io chiuderei con questo però Bong Joon-ho ormai l'abbiamo capito un grandissimo regista no e lo era ben prima di Parasite guardate questo film rispetto a Parasite mi pare che sia di oltre 10 anni prima 12 o 13 anni prima credo che sia del 2003 proprio l'anno 2003 quando ha fatto il film e credo anche che sia fatto non ho certezza assoluta perché è la mia memoria ma credo proprio che si riferisca a fatti veramente avvenuti veramente avvenuti quindi ci ha costruito un film formidabile quindi 2003 questo è del Parasite cos'era del 18 15 anni prima era già un talento formidabile sentiremo ancora molto parlare di lui bene io avrei chiuso qua e poi vabbè se non ci sono domande ma vedo che è tardi siamo un po' pochi se però qualcuno fa domande le faccia pure se no ci vediamo poi per un grandissimo capolavoro che Richard Jewel di 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 Eastwood ma lo conosciamo benissimo un grandissimo film a chiudere questa stagione poi speriamo da settembre di ritornare alla normalità anche come i tempi e stagioni benissimo allora sempre mercoledì vero? settimana prossima ecco perfetto ultimo film ancora di mercoledì bene arrivederci grazie 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 grazie